Presentata l'installazione proposta dall'artista foggiano Felice Limosani supportata da un gruppo di imprenditori sponsor dell'iniziativa i Campi di Omedei di 250 mila euro il costo dell'opera. Oltre all'artista la presentazione anche istituzioni comunali e dell'università. I Campi di Omedei rappresenti il simbolo di una rinascita e di una speranza concreta, fattiva della città di Foggia. È un luogo che per qualche strano motivo, per un miracolo è arrivato a noi integro da speculazioni edilizie e quant'altro. È un luogo dove la comunità si aggrega, si ritrova con bambini, famiglie, adulti insomma tutti in qualche modo sono richiamati a convivere in un ambiente e in uno spazio ampio dove per l'appunto i simboli che sono fatti per aggregare le genti su un'idea, ribadisco, su un pensiero a mio avviso potrebbe essere un ottimo spunto per raccontare ai ragazzi che cosa è significata la rivoluzione industriale e che cosa significa aver coraggio, senno e intelligenza insomma credo che sia uno stimolo per far sì che ci sia un dialogo. Dopo la presentazione l'amministrazione avvia le procedure per l'istituzione di un comitato scientifico provvisorio di alto profilo professionale composto da esperti in architettura, paesaggio, sviluppo culturale e artistico insieme ad un rappresentante designato dalla soprintendenza quest'ultima già interessata con interlocuzioni verbali a cui affidare ogni possibile valutazione critica dell'opera. L'installazione prevede il posizionamento di due torri con cuori pulsanti in cima una proposta che ha suscitato critiche da parte degli ambientalisti che hanno sollevato questioni relative a vincoli di inedificabilità all'interno dell'area di Campi di Omedei. Il comitato potrà individuare la migliore collocazione dell'installazione che potrebbe essere all'interno di Campi di Omedei e valutare anche allocazioni alternative con gli esiti che saranno poi sottoposti al Consiglio Comunale. Il comitato scientifico avrà proprio il compito di analizzare quest'opera dal punto di vista artistico e dall'inserimento paesaggistico quindi avremo opportunità di poter comprendere sia la valenza dell'opera sia dove quest'opera può essere collocata essendo un'opera di grandi dimensioni a necessità di uno spazio sufficientemente ampio per poter essere ammirata ed inserita e vista all'interno di un contesto. Sono tutte situazioni che dovremo sviluppare in progresso ovviamente nel rispetto di quelli che sono i vincoli, i limiti previsti dalla normativa non dimenticando che siamo di fronte ad un'opera d'arte.